Cari fratelli e sorelle, Ieri un forte terremoto ha colpito l'isola di Sumatra, in Indonesia. Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime e per i loro familiari, per i feriti e per quanto hanno perso la casa. Il Signore dia forza alla popolazione e sostenga l'opera di soccorso. Grazie per la visione!